Bentornati al corso di fotografia digitale, siamo alla 51esima lezione dove tratteremo i flash esterni, infatti aggiungere un flash esterno chiamato anche lampeggiatore o speed light alla nostra attrezzatura aprirà un nuovo mondo di possibilità creative, esistono flash esterni di varie dimensioni e caratteristiche ma anche i più piccoli sono comunque più potenti dei flash integrati, l'aspetto fondamentale da considerare nell'acquisto del flash è il bilanciamento di dimensioni, peso, caratteristiche e prezzo, i flash di alta gamma sono grandi e pesanti e possono rendere molto sbilanciate le CSC o le piccole reflex, mentre i flash più compatti sono meno potenti ma una volta che avremmo imparato a usarli potranno essere altrettanto efficaci. I vantaggi dell'utilizzo dei flash esterni sono che la posizione sopraelevata riduce il rischio di occhi rossi, si possono usare tecniche come il flash di rimbalzo, possono venire utilizzati mentre non sono montati sulla macchina per ampliare le soluzioni di illuminazione, mentre gli svantaggi sono che sono ingombranti, appesantiscono la macchina, sono meno comodi di un flash integrato e necessitano di batterie aggiuntive. Tra le varie tecniche che possiamo effettuare con un flash esterno abbiamo quello di bloccare il movimento con un rapido lampo di luce emesso dal flash, regolando la potenza del flash cambiamo il periodo di tempo in cui il flash lampeggia e modifichiamo la quantità di luce emessa, quindi scegliamo le impostazioni di potenza più basse per bloccare i movimenti rapidi e aumentare il valore degli ISO oppure utilizziamo un'apertura maggiore per compensare. Abbiamo poi il flash di rimbalzo, infatti inclinare la testa del flash per far rimbalzare la luce su una superficie vicina e ammorbidisce la luce creando quindi un effetto più piacevole. La superficie dovrebbe essere di colore neutro per evitare delle dominanti, far rimbalzare la luce del flash aumenta la distanza effettiva tra il flash e il soggetto, quindi dovremo aumentare l'esposizione del flash con l'esposizione manuale. E infine abbiamo un controllo dei colori, infatti con una gelatina si modifica il colore della luce del flash ed è una tecnica impiegata per far corrispondere la temperatura del colore del flash a quella della luce ambientale. Le gelatine vengono usate anche per aggiungere una colorazione artificiale e ottenere degli effetti particolari. Dal momento che le gelatine diminuiscono l'esposizione del flash dovremo aumentarne quindi la potenza. Abbiamo poi una gamma di effetti che si possono avere con il flash esterno. Abbiamo il flash diretto con l'utilizzo diretto del flash con la testa che punta direttamente verso il soggetto. Esso proietta l'ombra alle spalle di quest'ultimo definita come una sorgente di luce puntiforme, quindi una fonte di luce piccola rispetto al soggetto. Questa produce una luce intensa che crea dei contorni netti, ombre scure e luci brillanti. Abbiamo poi un flash wireless diretto dove allontanando il flash dalla macchina verso sinistra o destra si crea un'illuminazione laterale più interessante del flash diretto. Anche questa costituisce una sorgente di luce puntiforme e quindi la luce sarà dura e proietterà ombre profonde aumentando i livelli di contrasto. Il flash wireless con diffusore si ha aggiungendo un diffusore al flash wireless, quindi si ammorbidisce la luce. Una luce morbida si ottiene quando la fonte di luce è più grande del soggetto, quindi distribuendo la luce più del flash da solo crea a tutti gli effetti una fonte di luce più grande. Le ombre sono più morbide e meno dense, con un contrasto minore. Il flash di rimbalzo genera una fonte di luce più grande e ammorbidisce la luce rispetto al solo diffusore. Le ombre sono morbide e le alte luci meno intense e quindi distraggono meno. Più lontano viene fatto rimbalzare il flash più morbida risulterà la luce. Il flash di rimbalzo con diffusore combina un diffusore con un flash di rimbalzo e rende la luce ancora più morbida. Questo d'altro canto significa che la quantità di luce che raggiunge il soggetto è minore. Questa tecnica non è adatta per flash di piccole dimensioni, specialmente se si sceglie di usare aperture piccole e valori di iso bassi. Il flash di rimbalzo con diffusore e cartoncino si hanno quando il flash, che spesso hanno dei cartoncini integrati sulla testa, fa rimbalzare la luce. Il miglior modo di usarlo consiste nel restrarlo al massimo e inclinare la testa del flash verso l'alto e quindi scattare utilizzando la tecnica della luce di rimbalzo. Questa tecnica ammorbidirà ancora di più la luce del flash. Per quanto riguarda la luce ombra, l'illuminazione laterale conferisce a una foto un senso di profondità, illuminando metà della scena e lasciando l'altra in ombra. Ed è questo contrasto tra luce e ombra a donare alle foto un aspetto tridimensionale. L'illuminazione è blotterale, quindi potrebbe d'altro canto creare un contrasto eccessivo. Questo problema è risolvibile utilizzando una luce principale o dei riflettori. Anche per questa lezione è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like se vi sono piaciuti i miei video. Nella prossima lezione faremo pratica con il flash a sincronizzazione veloce. Grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione.